mentre parliamo del cream team il video del cream team non so se l'ho già fatto uscire quando uscirà questo ma sì penso proprio di sì perché doveva uscire in settimana ma non avevo connessione internet sufficiente quindi domenica lo caricherò il cream team mi stanno veramente sorprendendo per quanto il liquido con la cannella cinnamon simone per quanto continuerà a non piacermi ma perché non mi piace la cannella non peraltro gli altri due il buttercream in particolare ne ho svappati degli ml infiniti ma adesso mentre provavo il wasp nano che avete visto nel video precedente al quale vi mando se non l'avete visto e al quale vi cerco se non l'avete trovato il neapolitano è un liquido che spacca il c***o ragazzi non ci sono altre definizioni è una fragola è un liquido dove sicuramente spicca da morire la fragola ma non è la classica fragola che siamo abituati a sentire non è neanche la fragola matura di bang ma è una fragola dolce perché è quella fragola ammorbidita dallo zucchero secondo me c'è pure dello zucchero qua dentro perché è veramente buono è una fragola che non sentivo da tanto così è una fragola diversa sembra quasi che ci sia come un sottofondo di limone che non c'è il limone però è molto 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 buono ragazzi mi piace veramente un sacco voto 9 veramente buono mi piace sicuramente me ne svaperò dei grandi ml questo qua è un liquido che va bene anche in estate secondo me perché comunque non è di quelli pesanti questo qua sia in inverno che in estate può funzionare sì sono d'accordo con me stesso la descrizione precisa di questo liquido ragazzi è un gelato al cioccolato con fragola e sentori di vaniglia voglio essere molto sincero io il cioccolato non lo quello che sento però è la fragola è un liquido super buono quindi per me 9 come voto resta per il liquido se devo trovare la fedeltà a ciò che c'è scritto inizia a perdere pezzi per strada perché non c'è fedeltà rispetto a quello che c'è scritto il cioccolato io perlomeno non lo sento se qualcuno di voi lo sente datemi il mio numero e fatemi chiamare va bene ragazzi insomma questo era il tutto era il quanto era il come ed era il dove io vi invito a mettere mi piace iscrivervi al canale guardare il video precedente dove parlo del wasp nano rd a iscrivervi al canale attivare la campanella per le notifiche di questo canale ringrazio il posto pergine dove vi invito a iscrivervi vi invito anche a cercare i miei profili social su facebook ed instagram sempre con il nome matti vape e con l'ultima svapata di wasp nano con il nepolitan vi saluto vi ringrazio e comunque sia andiamo a napoli in napolo paesa ciao ultima